Eccoci quindi qui ragazzi, allora benvenuti nel secondo video di giornata dedicato come sempre al calciomercato finalmente torniamo a parlare di Roma, parliamo di un nuovo possibile attaccante accostato alla compagine giallorossa che potrebbe sostituire almeno a livello numerico il partente ed in geco sto parlando del colombiano Luis Muriel che tornato dal presso della Fiorentina al Sevilla potrebbe venire alla Roma per una cifra vicino ai 15 milioni di euro Allora, permetto prima di tutto una cosa, geco e muriel credo non abbiano praticamente nulla in comune quindi il suo arrivo porterebbe ad un cambio totale di modalità di gioco diciamo e questo potrebbe essere comunque una cosa positiva se consideriamo il fatto che il nuovo possibile allenatore Fonseca predilige attaccanti veloci o comunque bravi tecnicamente quindi muriel potrebbe fare tranquillamente al caso nostro e tra l'altro visti i prezzi esorbitanti che ci sono in giro spendere all'incirca 15 milioni per un attaccante secondo me indubbiamente talentuoso non sarebbe una cifra particolarmente esagerata purtroppo ci sono vari aspetti da considerare non è ovviamente tutto rose e fiori primo fra tutti la tenuta atletica del giocatore perché se è vero che i piedi sono ottimi e la velocità quando vuole è veramente incredibile a livello fisico ha sempre peccato un po' è sempre stato un po' troppo sovrappeso e questo è stato un problema sottolineato anche nelle ultime stagioni sottolineato perché comunque nonostante grandi cose ha mostrato un po' troppa discontinuità cioè in alcune partite sembrava un fenomeno soprattutto contro di noi mentre invece in altre non riusciva a fare esattamente quello che i tifosi si aspettavano da lui per questo motivo appunto non ha ancora trovato una sistemazione precisa e non ha una valutazione particolarmente elevata del suo cartellino io vi dico la verità a me piacerebbe molto vedere muriel con la maglia giallorossa è un giocatore che a me è sempre piaciuto nonostante appunto gli aspetti negativi che vi ho elencato in questo video e potrebbe comunque dare quell'imprevedibilità che all'attacco della Roma quest'anno è mancata perché tutta la manovra di gioco ma in generale e soprattutto il reparto offensivo mi è sembrato troppo prevedibile troppo mollo, troppo flaccido ecco, cioè l'unico che provava a fare qualcosa era il Sharawi perché un der sempre rotto per otti, anzi per otto non ne parliamo Dzeko ha fatto solamente gioco di sponda se no per il resto a livello di gol sappiamo tutti com'è andata Schick stendiamo un velo pietoso alla Roma è mancata proprio l'imprevedibilità e Muriel sicuramente se fosse in giornata riuscirebbe a darla contro qualsiasi avversario secondo me e tra l'altro sarebbe anche un modo per toglierselo di mezzo come possibile avversario visto che ogni fottuta volta che ci ha incontrato ci ha sempre fatto vedere i sorci neri, verdi, fate come volete con la maglia dell'Udinese con la maglia della Fiorentina con la maglia della Sampdoria ci ha sempre e costantemente purgato quindi averlo in squadra a meno che non si metta a fare autogol a ripetizione sarebbe sicuramente un vantaggio per noi ovviamente non basta prendere lui per poter dire di avere un reparto completo perché la partenza di Dzeko secondo me la subiremo molto se non verrà sostituito adeguatamente non tanto dal punto di vista dei gol anche ma anche sotto vari punti di vista sotto il punto di vista dell'esperienza internazionale del carisma, dell'aiuto ai compagni io con queste parole non dico che Dzeko doveva per forza rimanere perché era palese da diversi mesi che il giocatore non volesse più restare forse per un accordo già trovato con l'Inter o perché semplicemente non voleva appunto volare con la sua esperienza a Roma però in generale io credo che Muriel potrebbe essere sì una pedina in più ma non basta certamente lui perché tu secondo me devi piazzare anche Schick che dopo due anni ormai si può considerare tutti gli effetti un investimento fallito a meno che non vuoi fare quel famoso scambio di cui vi ho parlato qualche giorno fa con il Milan con Andre Silva in quel caso allora potresti provare a rivitalizzarlo con la maia rossonera prendendoti comunque uno che sa fare più il centravanti rispetto all'attaccante cieco e quindi comunque ritornando al discorso di prima non basta certo un Muriel in più per poter sistemare tutto il reparto offensivo prima di tutto bisognerà tenere i giocatori più importanti e tra l'altro non approfitto per dirvi che a breve non appena sarà ufficializzato l'allenatore vi porterò il video sui giocatori da tenere e da sbolognare per la prossima stagione e appunto devi tenere i migliori vendere magari chi non rende al massimo appunto come Gekko, Schick o forse anche un Derr sotto cioè solo se dovesse arrivare un'offerta dai 50 milioni in su che al momento non vale ma dobbiamo fare anche noi il nostro gioco di mercato come lo fa la Fiorentina con Chiesa per fare un esempio e devi prendere giocatori adatti soprattutto allo stile di gioco del nostro prossimo allenatore che sia Fonseca o che sia qualcun altro la partenza di Gekko ormai è scontata Muriel sarebbe secondo me un ottimo innesto però bisogna accompagnargli cioè bisogna dargli vicino giocatori d'esperienza adesso butto lì un nome si potrebbe provare a pensare ad Higuain visto che è un nome in uscita dalla Juve e probabilmente anzi sicuramente non resterà con la maglia bianconera potresti prenderlo tu approfitti del fatto che appunto il giocatore deve essere ceduto in qualche modo perché probabilmente la Juve vorrà puntare su un attaccante più giovane come appunti carri e potresti prenderlo spendendo soprattutto a livello di ingaggio ma secondo me fare una squadra di soli giovani è un rischio troppo elevato cioè finché mi prendi Muriel che mi dà imprevedibilità ok però devi accompagnarci anche un po' di esperienza e secondo me Higuain potrebbe essere tranquillamente un buonissimo nome però bisogna anche capire quale valutazione del cartellino gli darà la squadra bianconera che di solito quando vendi i propri giocatori in Italia è sempre per mandare delle truffe ecco se così possiamo dire perché a parte Asamoah che sta facendo discretamente bene tutti gli altri dai vari appunti Higuain Caldara Bonucci eccetera eccetera hanno sempre faticato tantissimo quindi vedremo un po' come s'evolverà la trattativa la possibile trattativa per l'arrivo del colombiano Muriel alla corte probabilmente appunto di Fonseca detto questo ragazzo allora a me piacerebbe ma non basta certamente lui fatemi sapere cosa sotto nei commenti cosa ne pensate se a voi piace oppure se pensate che la Roma debba andare su profili diversi un saluto e ci vediamo questa sera alle 18.30 per il terzo video dedicato al calcio mercato e vi annuncio chiudendo questo video che d'oggi in poi d'oggi in poi non so se si dice però da questa giornata in avanti salvo qualche video eccezionale porterò video a orari fissi 10.30 14.30 18.30 per la maggior parte dedicata al calcio mercato però ve lo ripeto se succederà qualcosa di cui bisogna parlare per forza cioè non per forza ma perché dovete sapere la mia opinione questi video sostituiranno quelli di mercato fondamentalmente fatemi sapere anche nei commenti se volete che io vi parli di qualche altro affare possibile inerente appunto al mercato sia della Roma che di altre squadre un saluto e sempre comunque forza Roma ciao ragazzi